eccoci qua di nuovo puntuali in maniera vergognosa alle 18.30 oramai è diventato l'appuntamento del giovedì come gli svizzeri quindi saluto ringrazio Giacomo Lunghi che ancora una volta ci dà una mano per capire un po' meglio letteratura persiana e soprattutto un libro in particolare perché premessa una settimana fa abbiamo fatto una diretta Instagram in cui abbiamo parlato del lavoro di Giacomo col suo lavoro di scouting, di traduttore ma non abbiamo parlato di una cosa importante, cioè dell'ultimo libro che ha tradotto e che è da poco uscito in Italia, che è questo qui che adesso vi faccio vedere, che è Terran Girl di Masamu Ebbali edito da Bonpiani e non abbiamo parlato per un motivo semplice perché io non avevo finito di leggerlo quindi è stata colpa mia però siccome ogni promessa è a debito adesso che finalmente l'ho fino di leggere ne parliamo e allora io comincerei subito con una domanda partiamo dal titolo originale e dal luogo in cui è stampato ci racconti perché sono due cose importanti da sapere partiamo dal luogo che è più semplice alla fine un libro che è stato pubblicato in Afghanistan nel 2016 in realtà è stato un modo di pubblicarlo senza dover togliere nulla al testo originale così come aveva pensato l'autrice aveva proposto il romanzo Qualche casa editrice iraniana che all'inizio ho accettato di spedirlo al ministero al ministero della cultura iraniano però insomma anche gli editori hanno tergiversato perché non è un bel momento se spediscono libri troppo problematici rischiano di perdere i sussidi ti ho perso Antone ah tu fai perdono i sussidi per le spese per la carta eccetera e insomma il libro è rimasto un po' nel casetto degli editori iraniani senza nessun risultato alla fine Massa si era anche un attimo stufata di aspettare deciso di fare qualcosa che in realtà fanno spesso gli autori iraniani quando un libro diciamo ha dei problemi a ricevere i permessi di pubblicazione in Iran ci sono autori non so uno pubblicato in italiano per esempio c'è il TAN di Via della Rivoluzione pubblicano i loro libri all'estero allora ci sono tanti che scelgono casi editrici che stanno negli Stati Uniti in Europa di iraniani che vivono all'estero lei invece ha fatto questo ha avuto questa idea carina secondo me di fare invece di pubblicarlo in un paese di lingua persiana quindi l'Afghanistan e l'ha fatto con un editore che è già un po' conosciuto perché ha pubblicato una versione di Lolita completa senza tagli che ha circolato abbastanza anche in Iran quindi questa è la storia evochi Lolita riparte tutto un filone è stato è stato un libro quello che che penso a segnare nello spartiacque un po' nella letteratura lo sguardo nostro nel bene e nel male secondo me poi io dico non so poi che magari puoi dire anche te secondo me non ha delle cose così eclatanti o diciamo passabili di censura forse alcuni passaggi un po' erotici però diciamo forse il libro che aspettando sarebbe anche potuto uscire in Iran comunque è andata così e alla fine giustamente anche lei ha detto voglio cioè l'ho scritto senza pensare di di dovermi imporre delle linee rosse ho cercato perché c'è anche questa questione dell'autocensura per gli autori iraniani ho provato a pubblicarlo a farlo pubblicare nel mio paese ma poi le cose andavano per le lunghe quindi ho scelto questa via e quindi Kabul nel 2016 e niente in Iran un po' circola perché poi tutti questi libri pubblicati all'estero hanno una distribuzione più difficile però pian piano magari qualche libreria indipendente tiene delle copie oppure insomma lei ha fatto circolare un po' le copie tra gli amici invece riguardo il titolo che è stato e lì è stato il titolo forse è stata una delle parti più difficili di tutto il libro perché in Persiano è un titolo molto particolare è una forma parlata del verbo fermarsi e in Persiano sarebbe che io ho tenuto durante tutta la traduzione ho tenuto questo titolo di lavoro che era non ci schioderemo che non è tanto bello in italiano devo dire però avevo messo lì questo questo chiodo giusto per tenere cioè almeno avevo messo lì questo titolo provvisorio e ho continuato così e in inglese suona un po' meglio Will Be Standing comunque l'idea che c'era dietro il titolo originale era una era una sorta di slogan cioè lei anche la copertina originale che io adesso non ho qua qua dove sono adesso però la copertina originale è scritta con una con un carattere tipografico un po' da vecchio manifesto degli anni settanta ah si l'avevo visto è rossa tra l'altro rosso il titolo perché ha un po' un rievo composto degli slogan di sinistra di Dantan degli anni settanta però anche un motto cioè un un'espressione che si usa anche oggi cioè lei mi diceva e sarebbe noi non ci schiodiamo nel senso che la vecchia rimanda sia la vecchia generazione di chi aveva fatto la rivoluzione e in particolare a quelli di sinistra che poi hanno perso e quindi una parte di questi gruppi di sinistra durante tutti gli anni ottanta ha continuato a combattere quindi in qualche modo era non schiodarsi dalle proprie idee non mollare la lotta e un altro invece e l'altro invece era non ci schiodiamo da qui nel senso era un po' motto di ribellione delle nuove generazioni magari quando vengono fermate dal dalla polizia morale che questo così mi diceva lei che mi diceva forza salite su sul camioncino e loro no no non ci schiodiamo rimaniamo qui e non ci schiodiamo quindi contiene molto evocativo in persiano in italiano chiaramente anche se ho cercato questa traduzione di comodo però non rimandava rimandava ben poco quindi il titolo l'ho scelto tipo in una giornata perché poi gli editori Bonpiani non mi hanno più fatto sapere niente del libro e invece a un certo punto mi fanno lo pubblichiamo però dobbiamo fare la copertina del titolo oggi un classico questo degli editori magari aspetti per mesi una risposta una cosa poi io devo dire su questo sapevo che sono sempre allerta perché poi tra l'altro Bonpiani era appena passata da Rizzo agli aggiunti quindi capivo anche tutto l'ambaradan che avessero e niente quindi passato il momento di panico con la copertina è stato più facile perché ho proposto qualche artista iraniano che avevo trovato su Instagram e tra l'altro hanno scelto un artista anche molto giovane per la foto di copertina e il titolo alla fine è un'idea che mi aveva suggerito Massa già prima quando abbiamo parlato del libro era l'idea che il libro alla fine ruotava attorno al corpo e la città cioè il corpo della protagonista questa ragazza e la città dove vive Teran e alla fine sono arrivato cioè continuavo a dare proposte che non andavano bene veramente anche brutte devo dire molto legnose e mi è venuta in mente Teran Girl così con questo inglese che non ha nessun appoggio diciamo scientifico non ha nessuna giustificazione ma l'ho fatto un po' d'orecchio perché mi pareva che funzionasse bene anche a livello commerciale un po' ispirato alla fine un po' dagli scrittori giapponesi devo dire perché sono quelli che forse tra gli scrittori lontani che hanno più titoli inglesi per quanto riguarda la narrativa e mi pareva che potesse andare subito sono stati subito andato di sì con Teran Girl e niente questo è stato poi che beh comunque è stata sicuramente una decisione una scelta anche dal punto di di sale marketing credo a zecchata nel senso fare nomi o titoli perché poi sarebbe anche ingiusto ma ci sono dei casi di libri bellissimi però il cui titolo magari è tradotto purtroppo o semplicemente alla lettera e non dice nulla al lettore italiano o magari privo anche di quegli accorgimenti anche nel formato della copertina che lo rendono difficile poi da capire da passare questo è immediato questo va detto che è una cosa che fa effetto facciamo rivedere un attimo la copertina ecco mi nascondo eh sì ci sei ancora Antonello e mi si senta però voglio dire il libro è molto immediato in questo senso quello che ti volevo chiedere è è una storia in cui tu prima hai fatto un cenno al corpo cioè il corpo che è centrale nella storia insieme alla città in effetti da questo sono circa 250-260 pagine in uno spazio molto molto ricche ci sono due temi che sono veramente presenti praticamente in ogni pagina e sono il corpo cioè l'attenzione per la cura del corpo e i soldi questo è una cosa che alla fine mi sono segnato le tre pagine ed è sono due presenze quasi ossessive nel libro sì sì è vero il corpo è molto presente è molto presente il corpo femminile a me sin da subito già dall'inizio è un libro che alla fine ne ho seguito anche prima della pubblicazione in persiano cioè quando io ho tradotto il primo libro di massa cioè non ti preoccupare e già mi ricordo una delle prime volte che c'eravamo visti a Tehran me ne aveva parlato all'inizio non l'ho capito cioè all'inizio la prima volta mi fa un libro su una segretaria ho detto boh che chissà che roba inutile non è e invece poi ho capito nel senso lei ha proprio cercato il personaggio che dal punto di vista della società come impiantata ma in Iran ma anche da noi perché poi la reazione l'ho avuta io che sono italiano è uno dei personaggi forse che a livello di cliché è quello proprio che meno ci interessa nel senso una segretaria cosa avrà mai da dire e invece tutto proprio il lavoro ha fatto un bel lavoro secondo me a me aperto gli occhi c'è sul e alla fine sceglie questo personaggio così marginale e anche attraverso il suo corpo come vive il suo corpo e come il suo corpo viene visto e usato dagli altri poi apre invece uno squarcio su una storia politica importante che affonda le radici nella rivoluzione e il corpo è un tema che a me sembra molto attuale oggi di cui se ne parla molto il corpo femminile come appunto anche la passività di questo corpo femminile nel senso tanti verbi o tante espressioni nel romanzo tante azioni sono delegate alle cose agli oggetti e tutto un agire su se stessa cioè il dovere cioè appunto il senso del dovere di essere belle di truccarsi esatto questa è la cosa che colpisce praticamente dall'inizio alla fine del libro questa ossessione per la dieta la cura fisica il trucco l'apparire di fronte agli uomini e di contrattare gli uomini che mediamente a parte alcuni casi che sono descrizioni di ragazzi affascinanti i muscoli mediamente fanno abbastanza schifo c'è anche questo decadimento questa decadenza di un personaggio in particolare che conosce questa descrizione che è lo zio della protagonista che poi c'è tutta una storia che ovviamente non raccontiamo ma c'è una scena che a me ha ricordato insomma anche per così alleggerire un po' il clima però quando Frassica tanti anni fa diceva è un rettile umano nel senso che è veramente un personaggio che sembra che si lasci vivere in questo salotto ovviamente e che effettivamente però dà un'idea di una certa contrapposizione generazionale tu prima parlavi di questa espressione gergale dei ragazzi nei confronti dell'altra generazione cioè i giorni quando vengono fermati che non vogliono appunto salire sulla camionetta sul cellulare insomma per i controlli ed effettivamente mi sembra che tutto il libro c'è una contrapposizione tra la generazione che è nata a cavallo subito dopo la rivoluzione e quella che ha partecipato alla rivoluzione non è fatto in modo così schematico però ci sono dei passaggi che sono anche abbastanza espliciti sì sì questo sicuramente poi è un tema che ricorre tanto nei libri della Mohebbali anche non ti preoccupare era un tema molto forte tra l'altro in realtà questo libro sarebbe il seguito di non ti preoccupare perché ritorno ai personaggi non ti preoccupare appare la protagonista di Terran Girl non di persona ma c'è il suo trucco schiacciato sul cuscino quando lei è andata dalla sua stanza ecco qua non ti preoccupare giusto per ricordare ovviamente edito da Ponte 33 ricordiamo sempre l'importanza di questa casa editrice Ponte 33 e anche della sua fondatrice esatto che tra l'altro che è che è raro sì sì che dobbiamo insomma ricordare il lavoro straordinario che ha fatto negli anni ma insieme a lei anche Bianca Maria Filippini e ovviamente tutte le persone che vedevo prima c'era anche Mario Vitalone tra l'altro che ha tradotto anche lui e alcuni dei suoi libri tutti a lui devo dire che sono anche quelli che poi sono affezionato pure io che mi hanno fatto divertire tanto e in generale comunque è stato il primo tentativo anche molto coraggioso oramai una decina di anni fa di aprire una finestra sulla letteratura persiana contemporanea di quella non della diaspora ne parlavamo ne parlavamo la settimana scorsa sì della letteratura scritta in persiano che poi sì diciamo anche volendo da chi sta all'estero però è chi sceglie di rivolgersi al pubblico iraniano e no tra l'altro devo dire che visto che abbiamo parlato di Ponte Tentadreche è stato veramente anche grazie al lavoro di Felicetta che poi ho potuto realizzare questo progetto con buon piani perché insomma lei ha avuto una parte importante nel organizzare la fiera del libro di Terane 2017 quando l'Italia era il paese ospite di onore e insomma grazie a questo lavoro ho potuto anche incontrare la direttrice di buon piani proprio grazie a quell'occasione lì quindi insomma io lo vedo un lavoro in continuità certo no no giusto avrei voluto ricordarlo comunque questo lavoro troppo Felicetta non c'è più dal giugno scorso però voglio dire per te che lavori in questo settore ma semplicemente anche per chi ama la cultura iraniana la letteratura iraniana è comunque come dire è una presenza vivissima nel senso ci capita molto molto spesso di citare non è non è un semplice omaggio è un riferimento importante ha creato proprio le basi per fare un lavoro ampio su questa letteratura assolutamente niente dicevamo dicevamo appunto questo sconto generazionale tra l'altro è un po' particolare non ti sento Antonello mi senti? così mi senti? c'è un po' di ritardo? io non ti sento non so se chiediamo agli amici perché io ti sento ti sento bene spero non ci sia un problema fammi dei segni parlami con la lingua dei gesti purtroppo non non so se gli altri ti sentono ma io no se ci date un se gli amici in ascolto ci danno un segnale se mi sentono niente maledizione peccato perché c'erano anche tante cose se qualcuno ci dice qualcosa non è che perché hai messo gli auricolari no si sente no no ce l'avevo anche prima si sente mi dicono che si sente forse provare a togliere gli auricolari non so no no ma io mi senti? io ti sento con o senza o senza auricolari si sente no no guarda sentono tutti gli altri sentono gli altri sentono no? gli altri sentono sì qualcuno scrive che ti sentono 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 anche te sì sì mi sentono io zero zero ok allora vedi un po' se è un problema tu prova a rimettere l'audio non so prova io non vorrei interrompere no ma tu sei già dentro non vorrei aspetta ti tolgo un attimo ti rimetto scusa allora ti tolgo un attimo solo e ti rinvito aspetta un attimo solo ecco 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 mi senti adesso? una prova a parlare? mi senti ora? no mi senti? non mi senti? io ti sento benissimo mannaggia la miseria provo a chiudere prova a chiudere tu dai provo a chiudere e richiudere vediamo un po' io ti chiudo un attimo ti rinvito mi dispiace per questo inconveniente perché stiamo andando credo bene e non ci manca nemmeno tantissimo come diciamo come 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 tempo e quello che stavamo dicendo era questo questo ecco vediamo un po' se adesso è tornato Giacomo vediamo un po' eccoci qua mi senti? adesso si ah perfetto restiamo così allora ottimo no quello che ti volevo dire era parlavamo appunto di questa contrapposizione generazionale ah si l'altra volta abbiamo citato io ho citato Calvino Italo Calvino per dire che lui sosteneva che il vero modo per leggere un libro è leggerlo nella traduzione no? perché il fatto di che le traduzioni spesso sono aggiornate fanno sì che un'opera non invecchi diciamo non non si perda troppo nella lingua in cui sarà scritta la cosa strana è che poi l'altro giorno ritrovo un'altra citazione di Italo Calvino che diceva le generazioni sono destinate a essere sempre contrapposte a farsi la guerra a odiarsi e questo in un certo senso in questo libro è esattamente così cioè nel senso che c'è eh tu hai accennato ma c'è un mistero legato a una storia politica possiamo dire no? degli anni eh immediatamente dopo la rivoluzione che crea un mistero che si risolverà alla fine del libro quindi non è un libro politico però diciamo che c'è una componente anche abbastanza c'è anche c'è anche una storia politica perché insomma forse i conflitti generazionali in Iran sono più accentuati proprio dal fatto che la generazione precedente ha fatto la rivoluzione quindi in qualche modo si porta sulle spalle la responsabilità di un cambiamento veramente epocale e quindi non è l'unica tra l'altro che parla di sconti generazionali ci sono tanti libri penso anche non so tra quelli che ho tradotti io le lezioni di papà pure quello c'è un uno scontro comunque un rapporto conflittuale tra tra il papà e il figlio sempre che sono due generazioni diverse uno di quelli che appunto ha fatto è stato era maturo durante la rivoluzione il figlio che è nato appena dopo e quindi si guarda posso ti interrompo perché leggere poche righe proprio di questo che stiamo dicendo che secondo me sono una delle delle pagine più belle del libro ah dai sentiamo allora cavolo se Freud avesse saputo quanti casi clinici c'erano a disposizione qui in Iran intendo si sarebbe divertito un mondo avrebbe scoperto che da queste parti tutti i problemi hanno in qualche modo a che fare con le sue teorie tutto si riassume nell'infanzia nel fondo schiena e in due o tre complessi arcinodi ed ipo elettra e qualcos'altro avrebbe anche apprezzato il fatto che nell'epica nazionale i giovani eroi tipo Sorab e Siavash finiscono ammazzati mentre Rostam il vecchio padre si risolleva tutto tronfio e per giunto non gliene importa un fico secco di aver fatto fuori il figlio non diventa nemmeno cieco come tipo anzi torna in guerra e uccide un altro campione Spandiar oppure c'è un demone il Zahak che se l'avesse conosciuto ci avrebbe tirato fuori altri due disturbi psichici da paura questo è un pezzo a parte che è molto divertente però che c'entra anche una cosa insomma della cultura iraniana molto profonda sì sì è vero questo il fatto che nella cultura cioè nella letteratura iraniana soprattutto nell'ID Lucy sono alla fine i papà ad averla vinta insomma insomma uccide pure suo figlio per sbaglio però insomma uccide il figlio e poi una una cosa su cui gli scrittori iraniani ho visto che riflettono molto questa questo mito fondante culturale per cui alla fine sono le vecchie generazioni da averla vinta e in in questo romanzo si mette mette dentro tutte le domande che si fanno le nuove generazioni oggi e anche tutto il tutto il tutto il peso che si portano dietro quelle vecchie cioè ci sono le nuove generazioni che sono nate appunto con con la rivoluzione già fatta con un sistema già avviato e spesso si si chiedono come sia stato possibile che abbiano fatto la rivoluzione per passare da un regime autoritario ad un altro regime che non garantisce loro di certo le libertà che invece vedono riconosciute tutti quanti i loro coetanei fuori nel mondo e e quindi c'è bisogna anche ricordare che in Iran scusami no che in Iran poi i giovani insomma chi è nato dopo la rivoluzione è la stragrande maggioranza del paese cioè mentre noi siamo un paese di base vecchio insomma fatto per in cui l'età media è molto alta in Iran il 75% della popolazione è nato dopo la rivoluzione quindi questo dà l'idea anche di un di quale sia poi la contrapposizione in termini anche numerici e e poi niente l'ha voluto raccontare invece una parte di della generazione vecchia di quelli che hanno fatto la rivoluzione che invece meno è quella non riconosciuta ufficialmente cioè quelli che avevano combattuto sul fronte di sinistra sappiamo poi che la rivoluzione di fatto è stata vinta dal fronte religioso dei militanti islamici però c'è stata anche tutta la componente di gruppi di sinistra molto sfaccettata che ha combattuto e ha ha combattuto per una causa in cui credeva comunque e si è vista poi si è lasciata sfuggire di mano si è vista togliere questa rivoluzione quindi i genitori della protagonista di fatto sono due ex militanti di sinistra e c'è questa domanda appunto sul poi lei ha rilasciato delle interviste belle sul fatto se se questa rivoluzione viene rifiutata o meno da chi è stato sconfitto e e su questo lei spesso dice dice di no cioè almeno per come ho letto io le sue interviste ho visto che non c'è un rifiuto della rivoluzione in sé perché forse su questo è a una maturità lei rispetto al ad un senso comune che vedo molto oggi in Iran un revival del periodo dello Shah però gli dice non è che ha rilasciato una dichiarazione molto bella in cui diceva che non è che rimpiango lo Shah perché se adesso mi devo mettere il vero quando c'era lo Shah uscivo però l'aria che respiravamo che mi attraversava i capelli era un'aria soffocante infatti nel libro si parla anche molto delle limitazioni di libertà che che c'erano sotto lo Shah ecco però c'è c'è poi tutto il c'è il come si può dire la sorpresa cioè l'incredulità delle generazioni nuove che assolutamente non capiscono come mai i loro genitori abbiano dato la vita insomma per arrivare a questo punto sì in fondo questo romanzo c'è anche una storia di un fallimento se vogliamo un fallimento esistenziale un fallimento ovviamente non entriamo nel dettaglio che non è il fallimento della protagonista ma è il fallimento della sua famiglia di una storia che ha un episodio particolarmente doloroso e tragico che risale oramai a molti anni prima e gli anni dopo e però questo peso questa eredità anche di un episodio se vogliamo che ovviamente non descriviamo ora ma che sicuramente pesa per tutta la narrazione di questa vicenda come un po' la madre di tutte le disgrazie però sì c'è anche questa parte che dicevi tu c'è la Savak prima c'è la repressione sotto lo Shah ci sono tutti questi aspetti diciamo che fanno anche un po' una piccola sintesi di storia dell'Iran però a differenza di molti libri di scrittori iraniani non c'è assolutamente un come dire un modo didascalico che a volte è veramente insopportabile il classico libro che vuole anche fare un po' di storia si mette lì e ti racconta come se ci fosse questa è la scena 1 e sotto la didascalia 1979 che è una cosa per un vero scrittore è una cosa quasi intollerabile nel senso che lei non si sognerebbe mai di farlo immagino perché nel libro questo assolutamente non c'è no no questo è veramente anche traducendolo proprio mi accorgevo che lei alla fine pensa alla propria letteratura totalmente per gli iraniani cioè il suo pubblico di riferimento sono gli iraniani infatti io ho rispettato tutto il testo però ho fatto delle piccole aggiunte che non si vedono d'occhio nudo per rendere un po' più esplicite alcune cose ad un lettore italiano che si va a leggere un libro iraniano però mediamente non ha un'infarinatura generale di storia dell'Iran certo no prima stavo pensando ai conflitti generazionali ma in realtà io adesso quando pensavo alla mohebalia come descriverla prima di fare questa diretta credo che lei sia proprio una scrittrice dei contrasti della sua società molto più di tanti altri eccola qua vediamo qui eh sì lei è un po' questa fama di scrittrice di belle comunque con non ti preoccupare il libro precedente si è un po' messa addosso l'etichetta di quella che raccontava le situazioni borderline di drogati di di giovani allo stato brado eccetera però credo che lei quello che le interessa è proprio andare lì a a grattare dove dove ci sono i contrasti di cui che tutti vivono in Iran però di cui magari si riesce a parlare poco e credo che lei faccia sostanzialmente questo lavoro perciò viene fuori il pandemonio che poi c'è che c'è nei suoi libri esatto perché è un libro questo adrenalinico nel senso veramente dal prima di di andare in onda facciamo i figli diciamo prima di ricollegarci è un libro che è facile da leggere però immaginavo che fosse stato faticosissimo da tradurre almeno perché è veramente un cambio di tempi continuo di scena in continuazione come se una macchina da presa che è sempre in movimento sì beh è stato devo dire lei ha questa scrittura tra l'altro in persiano lei quando c'è proprio il persiano che lei usa il persiano parlato non usa cioè non usa la forma scritta quando scrive adesso non so come si può far capire sia come in inglese per dire invece che scrivere I do not scrive I don't in persiano crea un contrasto molto forte poi è una lingua infarcita di espressioni gergali la protagonista chiaramente è un flusso di coscienza quindi parla senza filtri parla proprio come cioè da ragazza incazzata proprio che ha proprio un giramento di palle totale e da lì parte il libro e da lì parte il libro ma e qui arriviamo a quello che ti volevo chiedere perché il tuo lavoro di traduzione secondo me è stato veramente incredibile perché io credo che tu ti sia dovuto rinventare una lingua perché ho annotato delle espressioni che hai usato che da tradurre da 2 mesi 4-5 soltanto stare a rota che come io pensavo fosse un'espressione molto romana cioè che in genere si associa alle dipendenze alla tossica dipendenza stare a rota stare in fissa oppure questa pensavo fosse molto romana mo nel senso di adesso ah sì hanno rotto hanno rotto la minchia insomma pure questo insomma lo volevo dire in persiano come era lo sbatti lei dice lo sbatti del tapirulano cioè sono tutte espressioni che sono probabilmente sai cosa mi ha ricordato adesso quando Pasolini fece il fiore delle mille una notte e doppiava gli attori ovviamente che erano tutti venivano dallo Yemen dalla Somalia dall'Iran stesso eccetera eccetera lui siccome doppiava non esiste un'unità linguistica italiana non esiste un italiano vero li doppiava in dialetto e quindi c'erano gli Yemeniti che parlavano in siculo gli arabi che parlavano in napoletano cioè effettivamente qua tu fai un'operazione però rende moltissimo beh devo dire sulle queste espressioni in realtà io ho pensato non non mi sono fatto scrupoli se c'erano delle espressioni connotate a livello regionale cioè l'italiano che ho usato alla fine è un italiano standard probabilmente tenderà un po' verso il nordico perché io sono del nord però tutto sommato per esempio c'è minchia alla fine lo diciamo anche noi che siamo a Varese non è una parola cioè io a volte ma questo è vero sai per esempio sfigato è una cosa che quando io ero ragazzo a Roma non si diceva era un termine che non si conosceva poi è stato è stato importato dal nord ma non alla fine adesso con la televisione con non so quando traducevo un po' per prendere ispirazione mi guardavo anche i programmi di Maria De Filippi per dire o ascoltavo le amiche più disparate quando raccontavo i loro problemi di cuore nella maniera più esplicita possibile io ero lì che prendevo appunti perché mi cioè erano anche tutte è vero cioè nel senso che è un libro che non è letterario cioè nel senso che è vivo questo è un un complimento nel senso che non è che non è se la cosa peggiore qual è quando tu per esempio vedi un film e ti rendi conto della macchina da presa no? per me è una cosa che ti ha passato tantissimo di tanti film italiani mentre nei film americani questo ti scivola addosso e tu entri nel film e lo senso è questo libro cioè nel senso che tu entri nella storia di questa matta insomma perché è un personaggio bello bello pesante però non stai lì a come dire a sottolineare proprio di tanto il fatto sì chiaramente il fatto che sia Tehran lo associ a una serie di situazioni che sono tipicamente di Tehran però in fondo è una storia è anche un un dramma esistenziale un dramma che potrebbe essere universale poi ma sì perché poi non so non non mi sembrava il caso di tenere tipo queste espressioni gergali di di trovare delle formule aderenti al persiano quando in italiano sarebbero suonate molto macchinose mentre loro le dicono così come parliamo noi tutti i giorni senza pensarci perciò l'idea era la vera fedeltà era rendere l'immediatezza del discorso che c'era dentro il libro c'è anche insomma il tour qui l'auqueo è anche questa una traccia costante a cominciare dai primi dal nome dei titoli dei capitoli ah sì sì per il primo capitolo mi ero fatto molti scrupoli perché il primo capitolo l'ho cambiato fino all'ultimo perché non sapevo se usare cazzo cacchio cacchio vuoi fare stasera cazzo vuoi fare stasera cioè alla fine ho chiesto anche la redazione loro fanno ma no assolutamente cioè usiamo cazzo lei vuole vuole partire così appunto diciamo il primo capitolo si chiama lunedì 2 del pomeriggio e stasera cosa cazzo combini e questo e ce ne sono altri insomma altri esempi potremmo fare di questo tipo che comunque è qualcosa che è vero che anche nel cinema ultimamente un po' è stato sdoganato no? cioè si sente qualche espressione ma sì letteratura già da mo nel senso letteratura io poi ho letto sono andato a leggermi un po' le traduzioni di Bukowski di Salinger cioè tipo gli americani che sono davvero tanti anni che li traducono sono tanti anni che scrivono così perciò non avevamo esperienze di traduzione del persiano però potevo appoggiarmi ad altre esperienze fatte dall'inglese ne abbiamo un casino ma anche dal francese ce ne sono parecchie quindi da quel punto di vista in realtà niente di così nuovo ecco cioè la la cosa nuova è che il libro si è tradotto dal persiano però quello stile lì è stato già usato tanto dagli americani tantissimo tanto c'è anche un nel linguaggio della protagonista oltre a questo gergo ci sono anche molte espressioni potremmo dire digitali cioè gli emoticon cioè lui fa lei fa un riferimento continuo ai social anche alla alla messaggistica no cioè è molto molto contemporaneo è una parte più datata del libro perché si vede che l'ha cominciato a scrivere no è vero perché credo che lei l'abbia cominciato a scrivere nel 2012 o 2013 in realtà tipo lei parla delle faccine di Yahoo Messenger ah ecco però adesso chi se lo ricorda Yahoo Messenger cioè no infatti però si c'è questa idea delle faccine che alla fine è gente che sta tanto anche sui cellulari che si scambia messaggi quindi cioè alla fine tutto il libro succede nell'immaginazione della della protagonista quindi quindi cioè se uno guarda il cellulare costantemente ogni tre per due per vedere chi ha scritto è chiaro che poi può scattarti questa questa cosa di immaginare le faccine al posto delle espressioni vere delle persone che ti stanno davanti bene allora io non vorrei approfittare troppo del tuo tempo della tua pazienza però in conclusione tu voi sareste dovuti essere a Roma qualche settimana qualche giorno fa no quella manifestazione libri come che poi sarà annullata per per l'emergenza covid 19 quindi è un modo questo perlomeno anche di così perlomeno di parlare di questo libro che per fortuna per fortuna è uscito cioè è uno dei libri che ha fatto in tempo ad uscire e che ha avuto attenzione perché ha avuto delle recensioni anche su quotidiani nazionali però ecco adesso ovviamente un pochino questa situazione di blocco sta un po' facendo cioè gli hanno fatto anche la copertina di tutto i libri che ce l'ho qua che è stata veramente questa è stata una sorpresa non lo sapevo che le avessero che le facessero la copertina invece zacc beh sì questo è stato è stato appena anche prima del lockdown credo sia stato sì quello è stato la domenica appena prima del lockdown e niente sì purtroppo è stata la parte di promozione che forse le sarebbe un po' servita cioè è un libro alla fine difficile infatti sono contento che poi siamo arrivati a questo risultato titolo e copertina molto molto commerciali perché poi il libro è posso posso immaginare che forse per chi non ha tutto il background sull'Iran eccetera può anche essere un libro un po' un po' tosto da leggere perché appunto ci sono questi sbalzi temporali continui ci sono tanti riferimenti a a personaggi situazioni che se uno è stato Teranno possono essere familiari però però secondo me poi c'è tutta la secondo me guarda secondo me invece anche chi non è messa in Iran potrebbe essere affascinato da questo libro e potrebbe essere un motivo in più per avvicinarsi alla letteratura o al paese stesso perché secondo me è un bel libro cioè rimane il fatto che poi alla fine se i libri si leggono come dovrebbero essere letti cioè per piacere non e non necessariamente perché si debba imparare qualcosa ma perché leggere dovrebbe essere innanzitutto uno dei piaceri più belli della vita quello che diceva per Vittorio Dondelli è uno dei pochi delle poche cose che fottono la condanna di essere soli al mondo però è così poi in fondo e devo dire che io l'ho letto in pochi giorni e e e mi ha colpito cioè è sicuramente un libro che mi rimarrà parecchio perché non come dicevo l'altra volta era un pochino non prevenuto proprio lo sai di libri italiani in parte che avevo letto l'altro suo tradotto da te che mi era piaciuto quindi questo ero confortato ma un po' il sospetto sai che a volte anche la grande casa editrice certe volte ti mette un po' il sospetto che in realtà l'operazione sia troppo commerciale e invece no quindi io prima di scusami no no vai no devo dire che tra i libri che ho tradotto è quello di cui sono anche tra i libri che ho visto così che guardavo per per scegliere a tradurre era il libro che mi aveva convinto davvero di più mi pareva che finora sì il libro che veramente mi dispiace per gli altri autori però veramente perché l'ha costruito bene cioè so che ci ha lavorato tanto che ci ha pensato ha fatto anche un salto di qualità rispetto a non ti preoccupare sicuramente e poi secondo me appunto il libro che può che può avere tutti quelli appigli appunto per attirare il pubblico per per far suscitare un po' di curiosità la la donna iraniana questi questi giochi anche che fa con il velo la parte sul corpo però li sviluppa cioè prende tutto sommato lavora su su delle cose che potrebbero essere stereotipati però li sviluppa poi in maniera del tutto originale quindi è come una trama ben costruita quindi per me non so io li voglio bene a sto libro ecco punto sì ecco infatti è questa la sensazione questo si capisce ma si capisce proprio da come lo hai tradotto da come lo hai scritto perché poi appunto hai fatto secondo me un lavoro incredibile in questo senso ma è un libro secondo me è un libro a cui molti vorranno bene perché perché è un bel libro semplicemente per questo perché e vale la pena leggerlo io prima di di farti l'ultima domanda quindi io rimetto un attimo la copertina perché così insomma ricordiamo che è vero che adesso le librerie sono chiuse però alcuni distributori quelli grandi ancora inviano ma c'è un modo che io faccio sempre queste dirette un appello sosteniamo le librerie indipendenti che si stanno da fare in tutta Italia in mille modi e sono veramente eccezionali per spedire a casa e quindi comprate anche questo libro perché si trova abbastanza facilmente e in questo modo voi vi regalate un bel libro e sostenete anche le librerie indipendenti che in questo momento ne hanno bisogno lasciando la copertina lasciando la copertina qua sullo schermo così tutti quanti hanno tempo di vederla e fotografarla ricordarsela per andarla a comprare chiudiamo con una domanda se ce lo puoi dire a cosa stai lavorando adesso? eh non non ce lo puoi dire no posso dire che sto traducendo dall'arabo non lo dico non dico mai su cosa lavoro perché non si sa mai sto traducendo per buon piani dall'arabo però poi non si sa mai se i libri escono non escono perciò vabbè i libri dico poi quelli quando ho finito di lavorare che la casa editrice annuncia lo posso dire però però dall'arabo adesso sto lavorando dall'arabo benissimo tu sei stato tra l'altro l'abbiamo ripetutato l'altra volta pochi mesi fa in Iran nell'ultimo giro diciamo anche un po' a caccia di di lavoro a caccia di di autori e di libri da portare sei stato a novembre se non sbaglio eh sì non ho trovato mi sono un po' fermato con la caccia perché vorrei proseguire un po' sugli autori con cui ho già lavorato però vediamo no beh posso dire il prossimo dal persiano lo farò per lo farò per per un progetto che ha avviato Felicetta che è questa colana al mos che vuol dire diamante cioè i diamanti della letteratura persiana del novecento che è una colana di Ponte 33 con l'istituto Ismeo di cui è uscito già un lavoro di Felicetta che è Paura tremore di Soidi che è un libro bellissimo se volete se amate il golfo persico le sue atmosfere leggetelo perché veramente io ne tradurrò uno per loro che è Pietra Paziente di Soder Chewbac che è un po' il padrino poi di quelli degli autori di oggi che scrivono con lo slang perché anche lui usa una lingua molto popolare bene quindi ci dai un'anticipazione questo siamo molto contenti quando dovrebbe uscire? non è possibile dirlo no quando finirà in questo momento è veramente difficile fare previsioni anche per l'editoria no però uscirà adesso in un annetto credo che usciranno i prossimi tempi della collana va buon allora io ti ringrazio ancora una volta per la tua gentilezza per la tua disponibilità grazie anche per questo libro ringrazio anche tutte le persone che ci hanno seguito che sono tante vedo ancora qua in diretta tanto il video poi rimarrà su Facebook lo metterò anche su YouTube tra stasera e domani quindi grazie a tutti ci vediamo le prossime dirette qualche altra idea sempre a che fare con l'Irance e l'appello l'invito che facciamo a tutti ancora una volta restiamo a casa perché non è il momento assolutamente di mollare e quindi niente grazie a leggere e buona serata grazie a chi ci ha ascoltato stiamo a casa leggiamo grazie a chi ci ha ascoltato grazie a te Antonello grazie mille per lo spazio a te a voi alla prossima a presto ciao 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 ciao